Il turismo a bandiera blu per Agropoli è un momento importante, è il momento in cui l'amministrazione incontra gli stabilimenti balneari e insieme si fa il punto della situazione e si programma per il futuro. Come sapete la bandiera blu è un riconoscimento che non certifica soltanto la bellezza del posto, non certifica soltanto la pulizia del mare, ma mette insieme questo aspetto con l'aspetto ambientale, con l'aspetto organizzativo e dei servizi che abbiamo sulle spiagge. Quindi viene fuori un gioco di squadra premiato dal ventunesimo riconoscimento che viene da Roma, è un riconoscimento comunque che ci consente di far conoscere anche la nostra città dappertutto in modo tale da segnalare i nostri servizi e il nostro mare. Il brand bandiera blu è una soddisfazione personale ma della città, onestamente sono orgoglioso che ha raggiunto questo famoso traguardo, questo famoso brand che ci garantisce servizi sulla spiaggia, qualità delle acque e accessibilità. Anche il rapporto con i servizi turistici significa che è elevato. Sono fiero e orgoglioso e spero che sia solo il punto di partenza per le nostre spiagge, per la nostra bella Agropoli, di qualificare sempre di più il nostro ritorale.